Mi trovo al quartiere Tamburi davanti alla circoscrizione e alla sede al distaccamento di polizia locale, più volte ho denunciato gli atti di teppismo che accadono. Vedete cosa è successo? Delinquenti teppisti hanno rotto i vetri degli uffici comunali con delle pietre e vedete anche tutto a terra, guardate cosa è rimasto, appunto le pietre e i vetri degli uffici comunali che sono stati rotti. Guardate che scempio anche qui. Io avevo parlato proprio qualche mese fa con gli operatori, con i dipendenti comunali di questa situazione. Beh, io lo dico apertamente, sarò un sindaco sceriffo, ve lo dico apertamente, tolleranza zero, sicurezza, girerò per la città con i cittadini e con i vigili urbani perché questi teppisti avranno vita brevissima, linea dura verso questi criminali, perché di criminali si tratta. Questa città deve essere sicura, sicura. Aumento, potenziamento del numero dei vigili urbani, ma non solo. Un'azione continua, una coesione, un rapporto sinergico con le altre forze dell'ordine, con le forze di polizia del territorio, vigili urbani, carabinieri, polizia, guardia di finanza, perché non è possibile assistere a questo. Sì, nessuno si scandalizzi. Un sindaco sceriffo che gira per la città mattina e sera e garantisce la sicurezza. Taranto ha bisogno di essere sicura, i nostri anziati, le nostre donne, i nostri bambini devono vivere in condizioni di sicurezza. E benvenga un sindaco sceriffo, quale voglio essere io.